Stanno per tornare le spade laser qui su Fortnite Per prima di iniziare con il video ovviamente ti ricordo di iscriverti al canale, di lasciare like e condividere il video con tutti quanti i tuoi amici E anche loro sapranno di questo ritorno delle spade laser Ma ovviamente la cosa più importante di tutte è inserisci il codice di supporto a un creatore e elettorato con il negozio oggetti di Fortnite Così che mi supporterai con tutti gli acquisti che andrei a fare all'interno dell'item shop Avete capito bene, stanno per tornare le spade laser su Fortnite Perché stanno per tornare perché come ben sapete Ormai tutti gli anni l'Epic Games rilascia queste spade circa verso il periodo di maggio Proprio perché appunto il 4 maggio sarà rotto in inglese E' il giorno appunto della festa di Star Wars Quindi vedremo il ritorno delle spade laser per questo 4 maggio con un nuovo aggiornamento Inoltre sempre tema spade laser La prossima skin del nuovo pass che dovrebbe essere quello della season 3 capitolo 2 Sarà ora tema Lord Fennel Proprio per questo in questo season vedremo il ritorno delle spade laser circa verso il 4 maggio Like e iscrizione per altri video del genere